Petto dito mano, 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 pet petto dito mano più piano più piano so Pianissimo, piano, piano Adesso pianissimo 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 Le inquadrature da bordo capo Pianissimo 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 Perfetto dito mano, perfetto dito mano. Pianino! Perfetto dito mano, perfetto dito mano. Pianino! Poi ci si sa quello veloce. Vai! Andiamo! Zitti! Zitti! Adesso iniziamo! Vai! Uno, due, tre! Vediamo gli animatori come partecipano. Perfetto dito mano, perfetto dito mano. Perfetto dito mano, perfetto dito mano. Dai Cici, dai! Un saluto almeno, dai! Ciao! Dai! Sì, ya! Sei inquadrato! Perfetto dito mano, perfetto dito mano. Musica, un saluto. Allora, ciao! Al minimo troppo perfetto dito da solo perfetto. Perfetto dito mano, perfetto dito mano. Perfetto dito mano. Perfetto dito mano, perfetto dito 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 dito. Allora, la modalità veloce. Allora, la modalità veloce che è difficile stare. Perfetto dito mano, perfetto dito mano. Facciamo la modalità resistenza. In modalità veloce. Perfetto dito mano, perfetto dito mano, perfetto dito mano. Perfetto dito mano, 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 perfetto dito mano. Ciao Ginevra, non sanno più niente Dai Sara Dai Sarro